Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti di nuovo ancora ben ritrovati qua nel solito, usuale, classico, inconfondibile e celebrato disordine della mia libreria. Maglietta non da segnalazione stradale ma maglietta epocale perché qua c'ho quella celebrativa, la maglietta ufficiale di Stand by V dei Curnalcol, il disco dal vivo con la banda comunale di Mattelica dei Curnalcol, dei leggendari Curnalcol, degli straordinari Curnalcol e io a quel concerto c'ero e Dio solo sa quanto fu bello quel concerto da cui è stato tratto questo spettacolare disco. Allora, signori, signori, quest'oggi, 31 ottobre 2018 sulla Gazzetta dello Sport c'era un articolo di Sebastiano Vernazza che ci parla di una azione legale promossa dai legali del Genoa sul suo mandato del presidente Enrico preziosi. Il presidente del Grifone vuole presentare ricorso per lo scudetto del 1925 che segnerebbe, come dire, il decimo, cioè sarebbe il decimo titolo del Genoa e questo darebbe il diritto alla squadra del Grifone di portare la stella sulla maglia, la stella di dieci scudetti sulla maglia. Allora, che cos'è questa storia? Allora, si tratta di una bruttissima storia di violenza, di grossa violenza, di pesanti ingerenze politiche sul campionato italiano, tant'è che lo scudetto 24-25, lo scudetto italiano, il titolo italiano del 24-25 è stato inserito qualche anno fa nella hit parade dei più grandi scandali della storia del calcio mondiale da parte del quotidiano inglese Guardian. Che cosa accadde nel 1925? All'epoca non c'era il campionato a girone unico, era un campionato a due gironi, nord e centro-sud. Il vinceva al nord aveva in tasca il titolo, vista l'inferiorità delle squadre del centro-sud. Genoa e Bologna in quell'anno si incontrano nella finale del nord, ok? Servono cinque partite per regolare la questione, diciamo così. Allora, gara 1 vittoria del Genoa, gara 2 vittoria del Bologna, primo spareggio, gara 3, a Milano sul 2 a 0 per il Genoa, l'arbitro Mauro convalida un gol inesistente per il Bologna. Molti testimoni raccontano di come la palla sia stata spinta in rete da un tifoso rosso-blu, scusate da un tifoso bolognese, tutte e due le squadre hanno i colori rosso-blu, scusate, dicevo. In pratica i testimoni raccontano che un tifoso bolognese a bordo campo abbia spinto la palla in rete e l'arbitro Mauro ha convalidato. I tifosi bolognesi presenti a bordo campo a Milano erano tutti squadristi che rispondevano agli ordini di Leandro Arpinati, uno dei personaggi più potenti del regime, fedelissimo di Mussolini e in quel momento vicepresidente della federazione italiana gioco calcio. L'incontro finisce 2 a 2. Il Genoa si aspetta la vittoria a tavolino ma questa non arriva. Oibo, chissà come mai, uno si chiede, forse perché Arpinati era un acceso tifoso del Bologna? Non lo so. Però, vabbè, viene da pensarlo. Considerate anche le violenze e le minacce degli squadristi bolognesi nei confronti sia dei tifosi avversari sia, a quanto pare, dell'arbitro Mauro. Vabbè, dicevo, lo spareggio, gara 3, finisce 2 a 2. Allora, secondo spareggio, ovvero sia gara 4. A Torino, si gioca a Torino, finisce 1 a 1 sul campo ma in serata alla stazione di Porta Nuova, i tifosi bolognesi non trovano di meglio che ne far partire 30 colpi di pistola contro i tifosi genoani, contro i tifosi del Grifone. Ci sono diversi feriti. Aridanghete, al posto di, come dire, bloccare tutto quanto, la federazione prosegue in perterrita e il terzo ultimo spareggio, ovvero sia gara 5, si gioca il 9 agosto alle 7 del mattino alla periferia di Milana. Chissà come mai, oi boh, il Genoa viene tenuto all'oscuro del campo designato fino all'ultimo momento. Il Bologna? No. Allora, vince il Bologna che poi nella finale scudetto avrà vita facile contro l'Alba Roma e più o meno i fatti in pillole sono questi, ma insomma c'è anche da dire che poi tra l'altro il portiere del Genoa, Giovanni De Praa, sostiene che i palloni con cui si giocò quella disgraziatissima ultima partita, quel disgraziatissimo ultimo spareggio, erano stati scelti la sera prima dal Bologna ed erano più leggeri, quindi più facili da manovrare, perché ricordiamoci i palloni all'epoca, se non erano palle di pietra poco ci mancava. Insomma, una brutta storia di interferenze politiche, di violenza, insomma la dimostrazione è che la violenza nel calcio e anche nel calcio italiano non è mai mancata, cioè oggettivamente far partire 30 colpi di pistola contro i tifosi genoani fa sembrare le guerricciole, le guerriglie degli attuali ultrascalcistici, insomma una roba da barzelletta, una roba da educando, una roba da suorine di clausura, se vogliamo. Che dire? C'entra qualcosa l'influenza di Arpinati? Forse, probabilmente, pare, non possiamo saperlo perché come dire Arpinati, tifosissimo, allora Arpinati praticamente ministro dell'interno perché il portafoglio dell'interno era detenuto da Mussolini e Arpinati fu sottosegretario all'interno, quindi come dire, era diciamo piuttosto ammanicato. Inoltre la sua carica di vicepresidente della Federcalcio sicuramente ebbe un peso nella vittoria del Bologna contro il Genua nella finale del girone nord del campionato 24-25. Se fate due più due, cioè oggettivamente i metodi usati dalle squadracce dei fascisti bolognesi parlavano chiaro, detta com'è, che vi devo dire. C'è anche da dire una cosa che un paio di anni dopo, nel 1927, ci fu un altro scandalo ancora più non così grave perché diciamo con le buone o con le cattive le squadracce erano state come dire un pochettino silenziate, era stato messo il silenziatore, erano state fermate. Il calcio doveva continuare a servire come valvola di sfogo per il popolo, come sempre, detto siamo in Italia, siamo il popolo che perde le guerre come partite di calcio e perde le partite di calcio come guerre. Insomma, Churchill aveva pienamente ragione, siamo sinceri, però dicevo 1927, che cosa succede? C'è un caso piuttosto controverso e vi consiglio di andare a dare uno sguardo alla pagina Wikipedia che è piuttosto ben documentata. Ve la racconto breve. Praticamente lo scudetto 1927 viene vinto dal Torino, ma c'è un ma. Pare che il Torino, pare, perché le circostante sono piuttosto controverse. Dicevo, pare che il Torino abbia cercato di comprarsi un giocatore della Juve, ovvero sia Alemandi un terzino. Pare, perché qualcuno, forse non del tutto a torto, ma il momento tenete presente, il sottoscritto è interista e soprattutto è antigobbo, quindi non non pretendete, quando si parla di Juventus, equidistanza, non pretendete, distacco, non pretendete, come dire, buone maniere quando si parla della vecchia signora. Ecco, vabbè, lasciamo stare. Dicevo, questa storia del terzino della Juve comprato dal Torino, che si sarebbe venduto le partite con il Torino, va a finire che lo scudetto viene revocato a Egranata, ma non viene neanche segnato ai secondi arrivati, cioè il Bologna. All'epoca Arpinati era sempre in federcalcio, ma probabilmente si era dato una calmata e forse non voleva, forse, 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 non voleva tirare troppo la corda. Perché? Perché, come ben sappiamo, il calcio muove passioni, muove i cuori, muove le anime del popolo. Tu al popolo italiano gli puoi fare tutto, portargli via la pensione, portargli via le tutele, portargli via le chiappe, ma vagli a toccare il pallone al popolo italiano, vedi tu che succede. Sono italiano anche io, amo anche io il calcio, lo dico più di una volta, quindi, insomma, parliamone di questa cosa qui. L'influenza politica, cioè, insomma, come dire, un brutto caso, quello dello scudetto del 24-25, dove il peso politico e il peso delle violenze dei fascisti bolognesi si fecero indubbiamente sentire. Oggettivamente uno scudetto più truccato di quello del 24-25 è decisamente difficile da trovare. Devo essere sincero, cioè, praticamente, se c'era uno scudetto che andava revocato, non assegnato o cancellato, non erano tanto quelli della Juventus, ma era proprio questo qui del Bologna nel 24-25, perché, insomma, più chiara di così, oserei dire che non si può. Ripeto, il potere ha sempre flirtato col pallone. Tanti politici hanno fatto estrema fortuna tifando o sostenendo le tifoserie delle loro squadre. Se qualcuno pensa a certi politicanti moderni e alla loro fedeltà alla curva veronese dello stadio Bentegodi, insomma, è solo un esempio dei tanti, cioè il peso politico che smuove il pallone qua in Italia lo conoscete, cioè non è certo una novità, non è certo un mistero. Ecco, la politica è nel pallone. Basti vedere, come dire, chi c'è nelle tribune del calcio italiano, chi c'è nelle curve del calcio italiano. Sono sempre andati di pari passo, pallone e politica. Lo scudetto del 1925 ne è uno degli esempi più clamorosi, una delle, come dire, l'aldrate più cosmiche della storia, cioè al confronto Moggi, Giraudo e Bettega di Calciopoli, al confronto di quello che accade nel 24-25, fanno veramente la figura di Totò e Peppino, la banda degli onesti praticamente, e io che sono anti-Giuventino fino al midollo, cioè non posso far altro che dire questo. Insomma, lo scudetto 24-25 adesso, nei prossimi giorni, si valuterà il ricorso di Preziosi e del Genoa. Ma ripeto, è una brutta, 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 brutta storia, quella dello scudetto 24-25. Il Bologna non lo meritava, insomma, siamo anche sinceri, dopo che spari 30 colpi di pistola contro i tifosi genoani. Insomma, 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 che vi devo dire. E allora, una storia poco conosciuta del calcio italiano, una storia che vede uno dei personaggi più controversi, più discussi, più particolari e peculiari del fascismo. Leandro Arpinati, magari ne parlerò in futuro, uno dei personaggi più critici, più diciamo, tra virgolette, cioè, un momento, ricordiamoci una cosa, Arpinati fu sempre fascistissimo, fu sempre un fiero e leale fascista e fu sempre un fiero, leale e soprattutto irriducibile. seguace di Mussolini. Fu sempre un fedelissimo, sia al fascismo che a Mussolini, nonostante le sue posizioni, come dire, intellettuali, libere, intraprendenti e indipendenti. Oibò, perché Arpinati, nell'ambito dei leccapiedi che circondavano il Duce, Arpinati era veramente uno dei pochissimi ad essere sincero e diretto e che non si vergognasse di dire verità anche scomode al Duce. Tant'è che, come dire, il Duce affidò al suo fedele mastino Starace, all'utile cretino Starace, affidò il compito di togliere di mezzo lo scomodo Gerarca, ma non riuscì del tutto a toglierlo di mezzo nonostante il confino. Cioè, insomma, ci fu una feroce lite tra Starace e Arpinati. Starace presentò un dossier contro Arpinati e lo presentò al Duce. Arpinati mi scrisse praticamente un biglietto di insulti intimandogli di andare a fanculo. Starace se la legò al dito e Mussolini spedì Arpinati al confino. Arpinati che poi, come sappiamo, fu ucciso dai partigiani per ragioni mai del tutto chiarite e con dinamiche tuttora oscure il 22 aprile 1945 nella sua tenuta di Malacappa vicino a Boro. Insomma, una brutta storia. Sia quella dello scudetto 24-25 con, ripeto, 30 colpi di pistola tirati dai fascisti bolognesi contro i tifosi del Genoa. Bella roba, ripeto. E per la fine che fece uno dei protagonisti, ovvero sia Leandro Arpinati. Che vi devo dire? Calcio e politica. Calcio e potere. Ci sarebbe da scrivere tanto sui legami tra il potere politico e il pallone. In Spagna, vabbè, ne sa qualcosa come dire il Real Madrid. Altro che se ne sa qualcosa. In Portogallo, lo Sporting Lisbona e il Benfica che praticamente erano sempre comunque gli assoluti favoriti per la lotta allo scudetto. I pochi scudetti vinti dal Porto in Portogallo durante la dittatura di Salazar furono conquistati con fatiche in mani perché secondo la testa del regime portoghese tutto doveva finire a Lisbona e i poveri campagnoli chi se ne frega. Calcio ha sempre ragionato così se vogliamo. Qua in Italia, ripeto, recentemente ne sappiamo qualcosa. Il peso politico di certe squadre pesa. Urca se pesa. Quanto pesa la politica in certe squadre? Oppure anche per dire, vabbè, anche la Russia di Putin. Quanto pesa la politica nel calcio nella Russia di Putin? Pesa e pesa anche tanto. Cambiato è decisamente poco. Il brutto del calcio è che li incoglionisce. Vabbè, parlo io, detta com'è. Che vi posso dire? Buttiamola sul ridere, probabilmente per non piangere. Comunque sì, signori, che succederà? Daranno ex secco lo scudetto al Genoa? Dopo quasi un secolo riuscirà il Genoa a conquistare o a freggiarsi del decimo titolo potendo portare la stella sulla maglia? Lo sapremo fra qualche giorno e vedremo un po' che cosa succede. Nel frattempo, se potete, se potete, cercate di procurarvi il libro La stella negata del grande Genoa, edizioni De Ferrari, editore, scritto da Giancarlo Rizzoglio, che è un giornalista e studioso del Genoa. Un lavoro che è, come dire, molto meticoloso, che porta nuove prove su questa brutta storia del calcio italiano. Il confronto sanguinoso in tutti i sensi, realmente, tra Genoa e Bologna nel campionato 1924-1925. Che vi devo dire? Passano gli anni ma cambia decisamente poco. Sempre si ruba nel calcio italiano. Che vi devo ringrazio per l'attenzione e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video.